Grazie a tutti. La King seguiva molto combattute, voi eravate sempre davanti, in controllo, soprattutto nella prima manche, ho visto che vi siete allungati veramente molto bene già durante la bolina. Sì, che poi in realtà la prima è stata sul finire la più combattuta perché Puerto Calero è rientrato molto forte nell'ultima poppa, però credo che in tutte e tre le regate siamo riusciti a sfruttare al massimo la potenza della barca fin dall'uscita, dalla linea di partenza, e mettendo il naso avanti siamo riusciti a dettare sempre noi il ritmo della regata sui salti di vento che poi, come avrai visto oggi, sono stati abbastanza interessanti perché era non solo salto di direzione ma soprattutto variazione di pressione che dettava un po' la logica delle boline. Poi tra l'altro nella zona di partenza soprattutto un moto ondoso piuttosto importante, difficile da interpretare? Sì, non era semplice, credo che il GP42 comunque si muova abbastanza bene, specialmente nella prima regata con la Oscar, quindi con la possibilità di pompaggio libero, in poppa si riusciva a surfare veramente tutte le onde, quindi molto divertente. Tu sono già a diverse stagioni che sei in GP42, insomma una classe, io oggi ero a bordo, l'abbiamo detto, una classe comunque emozionante. Perché secondo te si fa così fatica a farla decollare? Beh, sicuramente la crisi generalizzata che c'è stata dal punto di vista economico non aiuta a crescita di classi. Il circuito Medcap è comunque qualcosa che come idea è molto impegnativo, anche se poi credo che in termini di costi il GP42 sia una classe abbastanza avvicinabile. Credo che quindi con magari l'anno prossimo un leggero miglioramento e magari delle scelte più attente da parte degli armatori a barche che comunque hanno un contenuto tecnico estremamente interessante e in continua evoluzione, secondo me il GP42 ha delle potenzialità. Grazie a voi.